Non siamo un fattito, non siamo una casta, siamo i cittadini di tutto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno, vale uno. Sì, grazie presidente. Io avevo fatto una richiesta che riguardava l'ambito sempre dei rifiuti, e quindi del ciclo dei rifiuti. In particolare avevamo fatto delle domande puntuali che riguardavano questi impianti di selezione spinta per aumentare la raccolta differenziata a Monza. Adesso io non ho il testo con me dell'interrogazione, però insomma volevamo dei chiarimenti riguardo alla strategia futura dell'amministrazione, riguardo a questi impianti, perché sostanzialmente erano uscite delle dichiarazioni anche su alcuni organi di stampa che secondo noi davano un'idea sbagliata e scorretta di come gestire il ciclo dei rifiuti. Perché il ciclo dei rifiuti dovrebbe essere qualche cosa di cui i cittadini sono partecipi e meno si utilizzano impianti meccanizzati di grandi dimensioni che impiegano dei macchinari, dei nomi fantasiosi. Adesso io credo che il macchinario a cui facevamo riferimento avesse anche un nome particolare, tirannosaurus, avesse un nome di questo genere, in qualche modo non incentivino appunto la consapevolezza dell'importanza di questa questione, che abbiamo avuto più volte modo di sottolineare. Per questo chiedevamo sostanzialmente dei chiarimenti all'amministrazione su cosa intendesse fare. Una domanda in particolare poi che avevamo posto era un dubbio, un quesito riguarda il fatto che la possibilità di contabilizzare come raccolta differenziata le quantità di frazione umida separata tramite questi impianti e poi inviata agli impianti di termovalorizzazione. Ecco, io non so fino a che punto sia corretto computare o calcolare questa frazione nelle quantità di raccolta differenziata. Direi che mi fermo qui nel presentare l'interpellanza. Voglio solamente approfittare del tempo che ho ancora a disposizione per ringraziare, sempre sul tema dei rifiuti, l'assessore e chi ha collaborato a dare una risposta a una interpellanza sempre sul tema dei rifiuti che riguardava i proventi della vendita di materiali raccolti separatamente e la frazione estranea perché la risposta a questa interpellanza è stata particolarmente precisa, puntuale, oltre che tempestiva e ci ha dato modo di conoscere e avere degli elementi molto importanti. Ora, dalla risposta a questa interpellanza, quindi io ringrazio l'assessore e naturalmente rispondo i tecnici e i responsabili del consorzio che hanno evidentemente elaborato questa risposta. Da quanto emerge, sostanzialmente avevamo chiesto di sapere quali erano le soglie per ciascun materiale per cui venivano riconosciuti dei corrispettivi al Comune di Monza per le quantità di plastica, alluminio, acciaio, legno, vetro, carta e cartone raccolti separatamente. Ecco, volevo dare e condividere appunto con l'Aula alcuni dati. Quindi sostanzialmente, è un discorso molto complesso e ogni materiale meriterebbe un discorso a sé stante perché ha consorzi, filiere, criteri e fasce completamente diverse. Però i mancati introiti dovuti quindi a una scarsa qualità della raccolta differenziata, mi sembra di capire che siano, non dico trascurabili, ma nel limite del 5%. Quindi sostanzialmente una percentuale che ritengo accettabile. In valore assoluto le cifre cominciano a essere abbastanza rilevanti perché stiamo parlando di 176.000 euro su un triennio, 2010, 2011, 2012. Quindi 176.000 euro di mancati introiti, quindi di corrispettivi non versati al Comune per una scarsa qualità della raccolta differenziata. Su questo tema ci sarà, credo, spazio per discutere. C'è un margine di miglioramento. Io mi fermo qui e ringrazio. Grazie consigliere Fuggetta. Assessore Marrazzo, prego. Dovremmo essere sufficientemente soddisfatti della percentuale di differenziata che abbiamo raggiunto nella nostra città per merito di tutti, soprattutto dei cittadini che da tempo hanno con maturità responsabilità permesso di raggiungere il 60% di raccolta differenziata. sul fatto che poi il 40% possa essere un altro momento di riflessione per cercare di recuperare ancora di quel 40% magari una minima parte differenziata è uno degli obiettivi che dobbiamo porci e che vogliamo perseguire. Ma ritornando alla sua interpellanza, l'obiettivo di una politica che non si sviluppa in un breve periodo ma che ha bisogno di tempo è chiaro che fa riferimento a quella politica di prevenzione che tendenzialmente suggerisce di ridurre la produzione di rifiuti. Questo secondo me viene detto poco ma è una delle politiche che dovremmo maggiormente perseguire perché la prevenzione che si usa in altre discussioni, in altre riflessioni anche qui credo sia il caso di introdurla. La seconda azione che noi vogliamo anche qui sviluppare è quella della preparazione per il riutilizzo, uso e riuso. Ecco, è uno dei prossimi impegni che vorremmo concretizzare anche se per adesso a livello teorico nella piattaforma già questa attività del riuso c'è e quindi vediamo di implementarla coinvolgendo anche le scuole. Poi c'è il riciclaggio, anche questa è una delle azioni quindi per dire quante azioni possono essere generate per raggiungere obiettivi ambiziosi. Poi c'è il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e anche qui non è cosa da poco ma si sta perseguendo. Poi c'è lo smaltimento ma questo lei ha già avuto modo di spiegarlo bene. Per cui, perché la frazione estranea qualche volta supera la percentuale fisiologicamente possibile quindi anche su questo io credo che dovremmo tutti dire che è vero che raccogliamo una percentuale altissima di facciamo una percentuale altissima differenziata però dobbiamo fare in modo che il vetro, la plastica, la carta siano di qualità, non contaminati da prodotti o frazioni estrane. Io le ho risposto, credo, con elementi chiaro che però il tema meriterebbe, come dire, di andare a declinare meglio alcuni aspetti tecnici che però si coniugano con la politica che sono però le attività che le ho raccontato e che però credo abbiamo potuto anche condividere durante qualche dibattito qua in aula. Grazie Assessore Marrazzo Bene, allora passiamo a questo punto se non c'è una replica da parte del Consigliere Fuggetta passiamo alla successiva interrogazione sempre a firma del Consigliere Fuggetta la numero 179, prego Grazie Presidente Sì, questa volta questa interpellanza invece aveva ad oggetto l'affidamento del servizio idrico in Brianza naturalmente l'oggetto specifico dell'interpellanza era l'apertura di una nuova pratica dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Ora, forse la richiesta strettamente intesa si può dire superata in quanto siamo entrati in una fase successiva come ben sanno i colleghi consiglieri come ben sanno il Sindaco e la Giunta abbiamo avuto modo di poter discutere del tema in quest'Aula all'inizio del mese di giugno il tema dell'affidamento è stato sviscerato anche a livello istituzionale e l'ultimo passaggio è stato quello di una proroga dell'affidamento a Brianza A Deve essere chiaro a tutti che nel momento in cui dovesse esserci una sospensiva ci sarà anche probabilmente un'interruzione del servizio perché poi alla fine di questo rischia di trattarsi però questa è una materia che evidentemente vedremo di prendere in considerazione nel momento in cui dovesse accadere quindi in questo senso noi ribadiamo ovviamente la nostra posizione la legittimità della nostra posizione e soprattutto credo i sindaci ribadiranno fino in fondo la piena consapevolezza che hanno nei confronti delle azioni che hanno compiuto perché questo mi sembra un altro di quei temi che in qualche modo è stato anche messo in discussione durante il dibattito e tutto può essere accettato meno che ritenere che i sindaci non siano consapevoli degli atti che compiono Grazie Sindaco Consigliere Fuggetta per una replica Sì, grazie Sindaco per l'intervento naturalmente io volevo dire solamente due questioni naturalmente le implicazioni di un ricorso al tribunale amministrativo e di un'avventura sospensiva sono diversi sono evari uno e poi quindi si valuterà poi successivamente inutile adesso fare delle previsioni ci sono diversi scenari possibili l'altro aspetto invece che a me preme sottolineare ecco in realtà Movimento 5 Stelle è autonomo rispetto a comitati, associazioni e quant'altro però il nostro modo di fare politica il nostro modo di fare politica il nostro approccio proprio la nostra filosofia e il motivo per cui siamo nati ha a che fare con le modalità di partecipazione e con le modalità con la nuova proposta di partecipazione e di vita politica dopodiché è chiaro che molti aderenti al Movimento 5 Stelle ma questo vale per la realtà di Monza come per altre realtà erano precedentemente iscritti ad associazioni a comitati che hanno una storia ben più lunga di quella del Movimento 5 Stelle quindi va da sé che alcune delle expertise delle capacità, delle conoscenze che abbiamo al nostro interno vengono proprio da questi comitati e da queste associazioni io sottolineo che questa è una nuova modalità di partecipazione alla vita politica che queste sinergie che si creano possono essere positive portare a nuovi frutti speriamo positivi che comunque sia o non è un matrimonio quello fra Movimento 5 Stelle e Comitato Beni Comuni è stata una convergenza su un tema che evidentemente interessa il Comitato Beni Comuni perché l'acqua è un bene comune e interessa il Movimento 5 Stelle in quanto la prima delle nostre 5 Stelle è proprio l'acqua pubblica grazie grazie Sindaco prego no mi scusi consigliere Fuggetta però non le consento di travisare le mie parole io non ho detto che il Movimento 5 Stelle non è autonomo rispetto al Comitato Beni Comuni ho detto esattamente il contrario e cioè che con questa decisione il Comitato Beni Comuni si rende come dire dimostra una subalternità o quantomeno un'assenza di autonomia rispetto al Movimento 5 Stelle questo è il tema quantomeno nella presentazione congiunta grazie buonasera a tutti intanto bentornati bentrovati niente l'interrogazione è un po' abbastanza dettagliata però sostanzialmente riguarda il programma di nazionale di mitigazione dell'impianto dell'impatto acustico dei tratti ferroviari urbani siccome in città ci sono diversi punti dove la ferrovia attraversa l'abitato e ad oggi mi sembra che sono molti ancora gli interventi che vadano fatti in questo senso per evitare che appunto le persone che abitano vicino la ferrovia vengano disturbate dal passaggio siccome c'era un programma nazionale per mitigare questi fastidi volevo sapere anche col piano di zonizzazione acustica a che punto sono perché ci sono dei punti della città dove tra attraversamenti viari attraversamenti ferroviari veramente le emissioni rumorose sono esagerate sono appunto che la gente anche fatica a dormire ecco se il sindaco o l'assessore può dare un aggiornamento a riguardo io poi avevo anche chiesto se era possibile avere una risposta scritta su questa interrogazione però non l'ho ricevuto non so se posso averlo grazie in questa delibera quindi sostanzialmente la delibera che lei cita recitava concordiamo col posizionamento delle barriere vogliamo vedere a livello di progetto definitivo poi queste barriere come si traducono proprio per l'impatto anche visivo che queste possono avere all'interno di un contesto urbano chiediamo altresì che il tratto che le dicevo inizialmente in prossimità di Fossati a Lamperti fosse in qualche modo da dilazionare nel tempo o da non fare cercando però di porre particolare attenzione al tratto dove più alta è la pressione che abbiamo che è il tratto tra via Gottardo e via Quintino Sella quindi dove la ferrovia da Monza verso Chiasso chilometro 12 chilometro 13 esce dal tunnel e ha quel pezzo incuneato dove c'è la passerella di via Gottardo per intenderci per dare un riferimento in attesa tutt'oggi che ci venga consegnato dopo che c'è stato sostanzialmente illustrato e quindi è stato presentato che verranno ancora realizzate lungolinea questi diciamo queste pannelli lavorando all'interno della sede ferroviaria che hanno diciamo un risultato molto forte rispetto ai recettori esterni a parte alcune situazioni molto mirate cioè di chi sta all'ottavo piano sulla ferrovia dove quindi la barriera potrebbe avere non avere un risultato ma credo che non mi ricordo se il 96-97% dei recettori dove è stato fatta una misura beneficerebbero di questo intervento allora noi abbiamo quel punto chiesto che venisse a questo punto inoltrato al progetto manifestando anche questa volta piena disponibilità a cercare di esaminare in tempi rapidi il progetto definitivo cosa che potrebbe a questo punto diciamo contemplare anche una revisione perché nel frattempo le tecnologie si sono evolute ma capire poi oggettivamente rispetto alle altezze i singoli tratti che cosa vuol dire posizionare una barriera soprattutto nei tratti sopraelevati grazie 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 grazie